Beh, se hai cliccato questo video le cose non dovrebbero stati andando troppo bene Perché se hai cliccato qui probabilmente è perché o stai valutando di mollare il trading O l'hai valutato in passato O magari addirittura hai mollato Per prima cosa ci sono passato anche io In diversi momenti del mio percorso da trader Ma la mia situazione non ho detto che sia simile alla tua La tua situazione potrebbe essere molto più delicata della mia Che se in mezzo ci sono restiti, soldi dei parenti, ludopatie che va avanti da 3, 4, 5 anni Ecco, questo video non fa per te Il trading non fa per te Quindi in quel caso ti raccomando di lasciar perdere Ma se sei all'inizio del tuo percorso e stai trovando le prime difficoltà O se sei già a buon punto nel tuo percorso, fai trading da un paio d'anni Ma ancora zio Billy non ci sei arrivato e giustamente ti stai chiedendo Ma quindi quando è che vedo i risultati? Ecco, in questi casi qua è diverso E molto probabilmente ti trovi all'interno di un ciclo Che tutte le persone quando approcciano un nuovo business o una nuova cosa hanno Un ciclo che parte da una fase iniziale di hype Definita ottimismo disinformato Dove magari hai appena scoperto il mondo del trading Sai che è figo, si possono fare soldi semplicemente con un paio di click Devi solo capire come diamine si costruisce una strategia Hai visto un paio di corsi dove ti mostrano nel passato cosa succede E dove puoi con qualche rettangolino, qualche linea tracciata sul grafico Più o meno predire dove andrà il prezzo E quindi gaso totale Poi cominci e effettivamente arrivi ad una fase Dove cominci a capire che le cose non sono così facili Dove capisci che devi costruirti un processo E che la cosa prende tempo E che non è così facile come ti aspettavi E non solo devi battere il mercato Ma devi anche battere te stesso Perché devi anche battere tutti quei problemi di gestione emotiva e psicologica E capisci che anche cercare un edge non è così facile Una volta che l'hai trovato non è facile applicarlo E quindi adesso ti trovi qui Che è il momento subito dopo la fase di pessimismo informato Dove hai cominciato a capire come funzionano realmente le cose E cominci a dire cazzo Pensavo fosse più facile Ora spezzo una lancia al tuo favore È probabile che tutto quell'ottimismo disinformato che hai avuto all'inizio Era perché qualche pezzo di merda ti ha fatto capire O ti ha illuso o ti ha lasciato far credere Che il trading fosse una cosa facile Al che questa fase di pessimismo molto informato Può essere una fase di disillusione molto profonda Però di fatto ti trovi adesso ad un bivio Dove l'idea è quella di mollare Oppure ora che si spera hai capito cosa devi fare Mettere finalmente il duro lavoro Che è necessario Per piano piano costruire te stesso come trader E arrivare finalmente alla fase di ottimismo informato Che è quella fase dove cominci a vedere i primi risultati Dove capisci che la professione del trader È una professione effettivamente molto versatile Che ti può consentire con 2-3 ore al giorno Di avere delle soddisfazioni economiche e niente male Sempre però consapevole delle difficoltà e dei rischi Ora lo stesso ciclo può venire anche se sei da un paio di anni già nel settore E magari hai appena approcciato una nuova strategia Ogni volta che approcci una nuova strategia C'è una fase di ottimismo disinformato Dove vedi i vantaggi di questo approccio Come può essere la price action Come può essere l'order flow La fondamentale Le opzioni E quando gli approcci tendi a vedere solo le cose fighe Quindi anche qui sei in una fase di ottimismo disinformato Al che poi ti rendi conto che come in ogni strategia Ha delle cose un po' più semplici Ha delle cose un po' più difficili Comunque alla fine ci devi mettere il tuo Perché non è la strategia a fare il trader Ma sono ore e ore e ore davanti ai grafici Con soldi reali Sbattendo la testa sui mercati Con metodo Che costruiscono un trader In ogni caso voi siete qui Quindi vi state trovando ad un momento di crisi Dove magari volete cambiare business O dove magari state pensando Ma magari questa strategia non fa per me Questo business non fa per me Che può essere Perché come abbiamo detto all'inizio Il trading non è per tutti Ma il rischio è che la vostra voglia di mollare Non arrivi da una decisione puramente razionale Su quello che è meglio per voi Ma arrivi da una tendenza che avete Fin da quando siete bambini Di non voler affrontare i problemi Di non voler affrontare le difficoltà E il trading ragazzi Non è un lavoro per bamboccioni E per femminucce È un lavoro dove bisogna mettere le palle sul tavolo Prendersi la responsabilità Delle proprie decisioni E non tutte le persone Sono in grado O hanno il mindset Per volerlo fare Perché la verità È che se vi trovate a questo punto qua Molto probabilmente Sapete perché siete arrivati qua E questo vale per qualunque tipo di business O impresa O lavoro Che vogliate intraprendere Se non state avendo i risultati che volete Dentro dentro lo sapete perché Perché al di là delle vostre autogiustificazioni O alle vostre razionalizzazioni Sapete che non avete lavorato abbastanza Sapete qual è il problema E il successo si trova proprio lì Né in quelle cose noiose Che sai di dover fare Ma che non hai voglia di fare Ed essendo che nella maggior parte dei casi Siamo molto privilegiati Abbiamo vissuto e viviamo in un mondo Che ci offre una vita molto agiata Dove la prossima scarica di dopamina È a portata di dito Dove si vive all'insegna Della gratificazione istantanea Perché nella maggior parte dei casi Siamo ancora dei bonaccioni Delle femminucce Che non sanno Che non vogliono affrontare i problemi E che danno la colpa Alle cose esterne Ecco questa attitudine va cambiata Nel trading ci vuole Sì o sì Perseveranza Disciplina Determinazione Costante nel tempo Oltre alle informazioni corrette Perché il rischio è che Se tu adesso Decidi di mollare Non stai risolvendo il problema Cioè ti stai giustificando Per rimanere nella zona comfort Per non fare quello sforzo in più Che spesso la vita ti ha richiesto E che sistematicamente Hai rifiutato di fare O al quale sistematicamente Ti sei nascosto Quindi o continui a mollare E in quel caso Molto probabilmente Tra poco Cos'è che troverai? Un altro business Un'altra idea Una nuova strategia Passo al liquidity Inducement Passo alle opzioni Oppure lasso il trading Passo ad Amazon FBA Passo al dropshipping Passo alla vendita In ogni caso Anche se potenzialmente Ognuno di questi business Può essere profittevole Avrai una fase anche lì Di ottimismo Disinformato Quindi ricomincerai il ciclo da capo E non sarà cambiato Assolutamente niente Comincerai a fare il dropshipping Comincerai la nuova strategia Perché sembra un modo di business Più facile Più fattibile Più figo O una strategia Che ha un vantaggio più grande O che sembra più facile Quindi è molto facile Che in quel momento di difficoltà Tu ti distragga Dal tuo focus principale E ti distrai Andando a seguire la donna Col vestito rosso Ti garantisco che se tu molli Per le ragioni sbagliate Cioè che non ci hai messo Il veramente tempo Sforzo Edizione e disciplina Ti garantisco al 100% Che i problemi Che adesso non stai affrontando La vita te li ripropone Sotto un'altra forma Al prossimo ciclo Quindi se vuoi mollare Sappi questo L'altra opzione È che capisci Che questa è l'opportunità Per te Di crescere come persona E capire che è proprio questo Il momento in cui la vita Ti sta chiedendo di crescere Di smetterla di fare il bamboccione E di cominciare a fare Le cose come vanno fatte Con lo sforzo che viene richiesto In ogni cosa Per avere successo Perché ripeto Tu lo sai cosa stai sbagliando Dentro dentro lo sai E se tu ti decidi A fare queste cose Che sai che vanno fatte È difficile Sì Però poi I risultati arrivano Poi puoi godere Di uno dei lavori Più versatili al mondo Più difficili al mondo Ma più versatili E più scalabili in assoluto Quindi Quali sono queste cose Che sai di dover fare Ma che non fai In primis È la ricerca del ledge Ho invitato qui sul canale Tre campioni del mondo di trading E una leggenda del trading italiano Enrico Stucchi E tutti questi Hanno una cosa in comune Si focalizzano Sull'avere Un edge Tecnico Costante nel tempo Cioè ognuno di questi trader Di successo Sa che quello che fa Mercato Ha un vantaggio statistico La maggior parte Delle persone invece Come anche te Non ha mai misurato Con dei dati Se quello che stai usando Ha effettivamente Un vantaggio statistico Cioè si ripete Nel tempo In modo costante In quel modo E hai verificato questa cosa Su un campione Di dati storici Sensato La ricerca del ledge Si fa con Osservazione Backtest E forward test Ne abbiamo parlato Non so quante volte Qui sul canale Ne parleremo anche Domenica 1 luglio Una live gratuita Dove parliamo proprio Di sta roba qua Di come si ricerca un edge Tramite i dati Di come è l'unico modo Per sopravvivere nei mercati Di come si tiene un edge Ottimizzato nel tempo E di come si può sistemare Quella testolina di cazzo Che ci fa fare gli errori Il link è qui sotto In descrizione Per iscriversi Quindi l'obiettivo qui È raccogliere e analizzare dati Questa cosa si può fare Tranquillamente con un foglio Excel O con un'applicazione Tipo quella che stiamo Per lanciare noi Che tra l'altro Verrà sempre presentata Il primo luglio Quindi iscriviti Di nuovo Ma raccogliere dati È l'unico modo Per costruirti La tua mappa del tesoro Solo quando hai un edge Validato da questa parte qua Allora puoi fare una fase Di forward testing Cioè dove prendi Un conto demo O un piccolo conto real Meglio un piccolo conto real Perché nel demo Non alleni per nulla Le emozioni E a quel punto Dopo che ti sei costruito Una strategia Il quanto il più possibile Meccanica Con delle regole chiare Precise per l'entry E per l'uscita Allora la testi Nei mercati attuali Per vedere se continui Ad avere un edge Anche nel mercato attuale Non solo sul passato Questa parte è importantissima Allora a quel punto C'è la fase di scaling Progressivo E monitoraggio Quindi piano piano Scalare il proprio capitale Abituandosi Anche con le prop O con il capitale Con piano d'accumulo Sul tuo conto Quello che è Però devi abituarti Gradualmente Piano piano A gestire cifre Sempre più alte Però si parte dal basso Non puoi partire subito Con 200.000 euro E soprattutto è importante La fase di monitoraggio Cioè tenere un journal Che è un'altra delle cose Che sai di dover fare Ma che molto probabilmente Non fai con costanza E con disciplina E che ti può davvero aiutare A effettivamente Fare un lavoro attivo Di correzione degli errori Puoi anche pensare Se proprio sei pigro Di tenere solo un journal Con gli errori Cioè se tu li lasci Lì sul grafico Quei dannati errori Lì rimangono E più tu non curi Il microtrauma psicologico Che hai subito Da quegli errori Più quel microtrauma Non si ripara Ma continui a fare Gli stessi errori E quel trauma Si infetta Diventa marcescente E diventa Non più un errore Che hai fatto una volta Ma comincia a diventare Un automatismo E un'abitudine operativa Tossica Quindi devi fare Un journaling Sia attivo Quindi segnarti I cazzo di errori Perché se non te li segni Non impari E poi un journaling passivo Possibilmente automatizzato Con un'applicazione Tipo quella che lancieremo O con qualunque altra Applicazione di statistiche Perché certe cose Te le dimentichi Certe cose Non le vedi Per certe cose Avere un sistema automatizzato Che ti analizza i dati È assolutamente essenziale Per tenere monitorato l'edge Per vedere quali giorni Magari performano bene O se c'è un periodo In cui sottoperforma La tua strategia E hai una fase di drawdown C'è da capire C'è da analizzare C'è da vedere E come dico sempre Tu devi riuscire a mantenere Il focus sul processo Non sul risultato Tu devi pensare Che ogni cosa funziona Con un input E un output Cioè c'è quello che tu metti dentro E quello che tu ne ricavi fuori Tu non puoi costantemente Focalizzarti sull'output Anche perché l'output Non dipende solo da te Dipende anche dalle condizioni di mercato Una buona parte dell'output Non la puoi controllare Tu puoi controllare Soltanto l'input Quindi è qui che devi focalizzarti Non su quanti soldi fai Ma su che decisioni prendi Su cosa fai nel day to day Sul come applichi la tua strategia Su che strategia applichi Tu devi focalizzarti Sull'input tecnico Su perché apri Quei cazzo di trade Tu devi dimenticarti Per un bel po' di tempo Del risultato Quando è che devi cominciare A pensare se un output È positivo o negativo Dopo una sessione Dopo una settimana Dopo un trade Chiaramente no Perché il nostro focus È lì no Perché noi guardiamo Solo l'attuale Ma noi dobbiamo pensare A decine, cinquanta, cento trade Prima di capire Se l'output È un output Che va bene o no Si possono essere Diverse giornate Settimane di drawdown A seconda della strategia Che usi A seconda dell'esperienza Perché se ti continui A focalizzare sull'output Alla fine andrà a finire Che cadi nelle solite Patologie operative Quindi che non dai Un input tecnico Ma che dai un input emotivo E se hai un input emotivo L'output Sarà un output di merda E per lavorare bene Sull'input Cioè su quello che tu fai Devi pensare A tutte le strategie possibili Per fare sì Che il processo decisionale Sia inquinato Il meno possibile Dalle tue emozioni Dalla tua psicologia Il primo E il più importante Modo per farlo È come abbiamo detto Validare l'edge Quindi il tuo edge Deve essere basato Sui dati Non su una tua Interpretazione Soggettiva Quindi ridurre al minimo La soggettività Come abbiamo detto Il journaling Ma poi devi anche Lavorare sul creare Un ambiente Sia esterno Che interno Che favorisca Il tuo focus La tua concentrazione La tua pace interiore E questo lo fai A livello esterno Costruendo una postazione Isolata Dove non ci sono distrazioni Non c'hai la mamma Non c'hai il cane Non c'hai disturbo Mentre fai trading Cellulare Sistematicamente spento O assolutamente silenzioso Togli tutte le notifiche Quindi prima ti crei Il tuo ambiente Per fare trading E poi devi lavorare A livello interno Cioè Quello che fai due ore Prima di arrivare a grafico La tua routine Se bevi caffè o meno Quando lo bevi Come hai dormito la sera Prima addirittura Se hai indossato Questo tipo di occhiali Per migliorare La qualità del sonno Se hai fatto esercizio Magari cardio Prima di metterti a grafico Cosa mangi Prima di metterti a grafico Chiaramente se ti mangerai Una carbonara Da quattro etti È normale che poi Ci avrai cali di zucchero E labbiocco Quando sei davanti ai grafici Ambiente esterno Che l'ambiente interno Perché quello che poi Dirige i tuoi comportamenti Sono neurotrasmettitori E ormoni Come la dopamina La serotonina Il testosterone Il cortisolo Sono tutte cose Che a livello biochimico Influenzano la tua attività Di trading Senza che neanche tu Te ne accorga Quindi c'è da creare Le condizioni ottimali Quindi solo dopo Che abbiamo fatto tutto ciò Ma fatto davvero No per finta No per una settimana Fatto per un periodo Lungo di tempo Sei mesi datevi almeno Solo dopo tutto questo E ancora non funziona Allora posso dirvi Ok Magari Non fa per te Ma molto probabilmente Il problema sta da qualche altra parte Nel fatto che non hai trovato un edge O nel fatto che hai continuato A fare cazzate Però se in continuo Imperterrito a fare cazzate Per un anno Due anni Tre anni Tesoro mio Il problema non è il trading Ok Però solo allora posso dire Magari non fa per te Ma fino ad allora Se non hai fatto Quello che sai che devi fare Cioè tutto questo E ti lamenti perché fallisci Ecco Ora ti ho ricordato Cosa devi fare Se invece hai fatto Almeno in buona parte Tutto questo E sei lì per mollare Ma sai che non vuoi mollare La cosa migliore Che ti posso consigliare E quello che mi ha consentito mai di riuscire ad andare avanti È ricordarti il tuo perché Perché hai deciso di fare sta roba Perché hai scelto il trading Personalmente il mio motivo Per cui ho cominciato a fare trading E impresa È perché arrivo da un background Molto umile Dove i soldi erano un problema E io uscito da scuola Mi sono promesso Che per me i soldi Non sarebbero più stato un problema Perché avevo sempre vissuto Tutta la mia vita così Dove erano i soldi A dominare la mia vita E io a lavorare per i soldi Ma in questo mondo Oggi più di in qualunque altro momento Nella storia Probabilmente È possibile flippare questo paradigma E fare sì che siano i soldi A lavorare per me E a fornirmi soluzioni E che sia io in controllo Dei soldi E non la mancanza di soldi Che sia in controllo Della mia vita Questo per me E per la mia famiglia Voglio che la mia famiglia Non abbia problemi di soldi Perché i problemi di soldi Sono brutti Non mi piacciono Specialmente all'interno delle famiglie Causano dei problemi Che potrebbero tranquillamente Non esserci Quindi io prima Voglio sistemare me stesso Poi la mia famiglia Sia la vecchia famiglia Che la nuova famiglia Poi il mio inner circle Quindi i miei amici stretti E poi piano piano Quello che avanza Anche per migliorare il mondo E aiutare il mondo Ma prima me stesso E le persone a cui tengo I dettagli intimi Del motivo Per cui ho scelto questo Saranno sempre con me E li terrò sempre con me Ti invito a fare lo stesso E far sì che sia quello Il fuoco che ti fa andare avanti Con disciplina e costanza E che sia il fuoco Che ti renda umile E che ti faccia stare A testa bassa Con pazienza e disciplina Ad applicare il tuo dannato processo Ci vediamo in live Il primo luglio Ciao Ciao